Ciao a tutti amici, sono io, Yulia War, e oggi sono qui per aprire insieme a voi questo pacco a sorpresa. Allora, oggi vedremo appunto questo pacco che, devo dire, ha una carta stupenda, guardate quanto è bella. Cioè, ci sono questi pinguini, questi pupazzi di neve, renne, di tutto e di più, ed è super super carina. Davvero, quasi mi dispiace doverlo aprire perché la carta è stupenda. Allora, direi di aprirlo subito, togliendo prima di tutto queste. Vediamo, oh mio Dio, le cattura stelle. Ah, che carino! Serve praticamente proprio per catturare le stelle attraverso questa bacchetta magica, che verranno proiettate da questa, che è anche una lampada, sui muri di casa. E appunto bisogna divertirsi a catturarle. Allora, catturare le stelle è l'unico modo per vivere la magia delle fate. Le stelle saranno proiettate sul soffitto. Prendi le stelle con la bacchetta magica. La fatina e la bacchetta magica cambiano colore. Mmm, interessante! Allora, dai, direi di aprire la confezione. Allora, qua cos'è che dice la bacchetta magica? Livelli di colore, quale livello raggiungerai? Ah, ci sono vari livelli, e poi c'è tipo il livello 10, che è proprio il più difficile da raggiungere. Molto carino. Ok, ragazzi, eccoci qui. Abbiamo appunto la bacchetta magica. Vedete che ha questa stella bianchissima sulla punta. Vedete, in questo modo. Più ovviamente dovremo aggiungere le batterie, perché funzioni. E penso proprio che per catturare le stelle serva... Ah, ok, ok, ho capito. Quindi praticamente per catturare la stella bisogna puntare la bacchetta contro la stella e intanto premere il pulsante, affinché appunto, in un certo senso, la bacchetta catturi la stella. Dopodiché c'è questa, che oltre ad essere una lampada, è proprio il proiettore delle stelle, che le proietta su tutte le pareti della camera. Vedete, proprio da questi... Da questi buchini dovrebbero proiettare le stelle. È molto molto carina, a parte che è bellissima da vedere, la si può mettere da qualsiasi parte, perché è proprio carina. Vedete, c'è questa fatina che poi si illumina azionandola. Vedete, infatti ci sono dei... ci sono vari livelli, così è spenta. Andando poi verso l'1 si entra nella modalità di gioco facile, verso lo 0 in quella difficile, poi andando invece dal 3 diventa semplicemente una lampada, quindi c'è... si illumina. Mentre andando verso il 4 c'è un altro tipo di luce, però è sempre una lampada, mentre invece sul 2 è spenta. Ah, e qua poi mostra i vari livelli, quindi quali livelli si possono raggiungere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fino al 10, cioè quello proprio il fantastico. È quello più bello, più tutto. Ok ragazzi, ho messo le batterie, ho anche provato un po' la bacchetta, giusto per abituarmici. Sono riuscita ad arrivare addirittura al livello 2 incredibile. Ovviamente, come vi ho spiegato prima, per accendere la bacchetta bisogna tenere premuto. Inoltre, ho messo le bacchette, sì, le bacchette, ho messo anche le batterie all'interno proprio di questa lampada. Infatti, se spegniamo tutte le luci, e allora azioniamo, andiamo al primo livello di luce. Vedete, oltre a proiettare questa luce molto molto carina, vedete che cambia sempre colore, c'è anche una leggera musichetta. Se invece andiamo all'altro livello di energia, ah, e tra l'altro proietta anche, vedete, queste bellissime stelline, che poi sono quelle che nella modalità di gioco dobbiamo andare a catturare. Guardate che belle, è proprio proprio carino. Vedete, invece, attivando il secondo livello di luce, brilla soltanto. Oddio, che belle, tutte queste lucine, tutte queste stelle. Vabbè, dai ragazzi, io direi di andare a provare proprio il gioco. Ok ragazzi, adesso ci siamo spostati nella camera da letto dei miei genitori per provare a catturare insieme le stelle. Allora, io direi di azionare il gioco mettendo, però la modalità facile, perché ancora non sono molto esperta. Quindi, ok. Accendiamo la pacchetta. Sono prontissima per catturare le stelle. Ok. Ok. Dove siete? Ok. No, dove stanno? No, è scappata. Ok, l'ha presa. Ok, fatto. Oddio, siamo arrivati al livello 2, penso. Ok, dai. Siamo andando benissimo. Sì, siamo arrivati al livello 3. Penso sia quello... Sì, è il livello 3. Vedete, è gialla. No, l'ho mancato. Stiamo andando benissimo, ragazzi. Non l'ho persa. L'ho persa di nuovo. Sì, siamo arrivati al livello 4. Siamo andando benissimo. Dobbiamo assolutamente arrivare al livello 10. Che stanno? Mannaggia, le sto perdendo. Ok, sì. Ok, sì. Sì, siamo arrivati al livello 5. Siamo troppo bravi. No, l'ho persa. Sì, al livello 3. Siamo bravissimi. Presa. Sì, livello 7. Vabbè, ci manca sempre meno stelle. Però devo dire che è complicato. perché queste stelle scappano velocemente. Ok. 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 No. Siamo arrivati al livello 6. Non riesco a vedere. Ok, il rosso. Guardate che bel colore. Ok, allora. Siamo arrivati al livello 8. Adesso dobbiamo solo aspettare che... Anzi, io direi di passare proprio a livello alla... Quella difficile, eh. Così. Vediamo. Vediamo come... Questa è la modalità difficile. Le sto perdendo! Adesso no, ecco le... No, va persa. Ok. Ok. Oddio, è stancante catturare stelle. Vabbè, dai ragazzi, io direi di concludere qui. Abbiamo catturato un sacco di stelle. Penso anche di essere arrivata al livello 10. Visto che abbiamo catturato tantissime stelle. Basta! Perciò ragazzi, spero che questo cattura le stelle vi sia piaciuto. È molto divertente catturare le stelle con questa bacchetta è super super divertente. E io ve lo consiglio perché davvero mi sono divertita un sacco. Bene, adesso passiamo ai saluti. Ovviamente vi ricordo di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto e di iscrivervi al mio canale. E di passare anche dai miei profili di Instagram che trovate qua sotto nella descrizione. E vi ricordo anche di seguire la mia pagina di Facebook che si chiama GiuliaGuerra03 della quale lascio sempre nella descrizione il link. Bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!